E allora, buongiorno, se buongiorno si può dire, questa è la situazione di adesso, attuale, sono quasi mezzogiorno, ci hanno appena comunicato che l'hotel chiude e quindi noi ci ritroviamo in questa situazione, scusate se mi tremano le mani però sono abbastanza nervosa perché noi dobbiamo lasciare l'hotel e non sappiamo dove andare, eravamo ancora in attesa dell'appartamento ma la Marie del non arrondismo, che tra l'altro è indagata per il mio incidente, diciamo che l'urgenza l'hanno trattata con un po' di, se la sono presa comoda insomma, e noi ancora non abbiamo un appartamento, quindi non sappiamo dove andare, questa è la situazione di adesso, noi lo sapevamo che questo hotel chiudeva perché fino a ieri sera eravamo rimaste le uniche in tutto l'hotel, però avevamo cercato di restare positive, però c'è sempre un limite a tutto, vi faremo sapere, insomma, prossimamente, alla faccia.